Interventi per il disinquinamento del fiume Pescara e per la tutela e salvaguardia del mare. Individuazione dell'area per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio della città. E questo è uno dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pescara. Una questione che già trova il dissenso da parte dell'opposizione, poiché Forza Italia non ritiene utile un secondo depuratore a ridosso di quello già esistente. Pensiamo che sia molto più logico immaginare soluzioni alternative, che costino meno o che siano più veloce. Una vasca di contenimento delle acque meteoriche, garantendo anche il riciclo di queste acque, potrebbe essere una prima soluzione. Aspettare gli esiti del potenziamento del primo depuratore, che porterà al raddoppio della sua capacità depurativa. Oppure, un'ulteriore alternativa, poiché le utenze interessate sono quelle di San Giovanni Tiatino e di Spoltore, in particolare la realizzazione di due piccoli depuratori su San Giovanni Tiatino e su Spoltore, perché non ha senso caricare tutto su Pescara, che è un territorio assolutamente ridotto, c'ha l'ex quartiere 3 che è già occupato dal primo depuratore e non ci pare proprio che sia il caso di andarci a caricare un ulteriore pesantissimo detratore ambientale, qual è il depuratore. Stagione balneare dunque ancora non in salvo e di certo non grazie alla realizzazione di un nuovo impianto, che non sarebbe attivo prima dell'avvio della stagione 2017. Facciamo chiarezza, intanto l'eventuale secondo depuratore non risolve i problemi né di questa stagione balneare, neppure della prossima e neppure di quella del 2019, perché la realizzazione è una cosa assolutamente complessa, presuppone la bonifica delle aree interessate e quindi passerebbero anni prima che il secondo depuratore possa vedere la luce. Noi riteniamo che questa non sia la soluzione, perché questa è una soluzione molto impattante dal punto di vista ambientale che costa molto sia in termini realizzativi che di gestione, diciamo ai cittadini che il secondo depuratore porterebbe nelle bollette di ciascuno di noi 2 milioni e mezzo in più l'anno di costi da affrontare.